È attivo il Fondo regionale di microcredito che finanzia lo sviluppo di piccole iniziative imprenditoriali e professionali. Le domande per i finanziamenti possono essere presentate a partire dal 15 marzo 2017. 2 milioni di euro disponibili per erogare finanziamenti di importo compreso tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 15.000 euro fino al 31-12 2017 per acquistare beni o servizi legati all'attività svolta, pagare corsi di formazione, soddisfare esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività o investire in innovazione, prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo permessa a punto di prodotti o servizi. Possono partecipare lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Emilia Romagna che alla data della domanda siano titolari di partita IVA da un minimo di un anno e da non più di 5, con fatturato compreso tra 15 e 70 mila euro. Liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge IV del 2013. Forme aggregate tra professionisti con i medesimi requisiti previsti per le imprese. Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative operanti in Emilia Romagna, che alla data della domanda siano avviate da almeno un anno e da non più di 5, con fatturato annuo compreso tra 15 e 100 mila euro. Per partecipare ci si può rivolgere agli sportelli Unifidi Emilia Romagna o visitare il sito www.unifidi.eu, sezione microcredito. Informazioni anche sul portale Imprese della Regione Emilia Romagna.